ciao a tutti benvenuti o bentornati sul canale per il video giornaliero oggi si parla di low cost questo video è sempre super cliccato un sacco di visualizzazioni un sacco di commenti perché il low cost di questi tempi ovviamente è un argomento che interessa a tutti noi perché quando si può acquistare un prodotto che ha una buona performance un buon risultato ricordiamo ovviamente che è sempre tutto molto soggettivo perché no insomma se lo si può fare con un notevole risparmio è sempre meglio dicevo che però è tutto soggettivo quindi è ovvio che alcune di voi magari non si saranno trovate bene o non si troveranno bene coi prodotti che magari vi consiglio io ogni mese cerco puntualmente proprio di inserire sia nel make up che nella skin care qualcosa che non sia di brand insomma troppo cari che sia drugstore o che sia comunque super super low cost se possibile e provo appunto questi prodotti nella speranza poi di trovare qualcosa che risulti essere di mio gradimento e quindi poi ve lo consiglio questa settimana iniziamo subito con un prodotto di skin care allora il prodotto di skin care di cui vi parlo è uno scrub vi avevo già preannunciato di aver provato gli scrub l'oreal ho visto che hanno riscosso da alcune parti consensi altre persone li hanno provati e non si sono trovate bene come sempre accade ovviamente io invece devo dire che li ho apprezzati moltissimo in questo periodo la mia pelle è un po' cambiata tendo a lucidarmi sarà l'arrivo improvviso del caldo io veramente ho la pelle un po' più mista cioè proprio la mia zona T sarà che forse ho anche smesso l'applicazione dell'acido retinoico con l'arrivo appunto del caldo negli ultime settimane di aprile quando ero arrivata la botta di caldo avevo pressoché terminato il tubetto e quindi non l'ho più applicato e la mia pelle da super secca che è stata quest'inverno ha iniziato ad essere mista quindi ho subito effettivamente iniziato ad utilizzare la tipologia io li ho ancora tenuti nelle scatole anche se li ho ovviamente utilizzati per farveli vedere ho iniziato ad utilizzare la tipologia non per pelle secca quella per pelle normale che è praticamente dedicata alle pelli normali e alle pelli spente perché è quello illuminante mi è piaciuto moltissimo questo dei tre forse è quello che mi piace di più ed è quello appunto al olio di semi d'uva e ai tre zuccheri fini questo qua l'ho utilizzato in un video dove appunto facevo la routine credo detox home detox qualcosa del genere nel caso comunque ve lo lascio qui e trovo che i granuli siano efficaci che comunque apporti anche cioè che non sia aggressivo sulla pelle quindi comunque lo sento non so se si può dire oleosetto perché forse non è adatto però insomma noto che quando sciacquo la pelle non mi stratira nelle zone invece magari più secche perché ovviamente la pelle mista ha una zona più grassa che si lucida e delle zone tipo le guance o questa zona qua che per me è più secca poi ho il mento super grassissimo infatti ho avuto i brufoli questi mesi vabbè e quindi questo era quello che mi è piaciuto proprio di più dico che si tratta di un prodotto che inseriscono in low cost perché è senza dubbio uno scrub da grande distribuzione certo è ovvio che se ne trovano di meno costosi ancora ma in questa rubrica ho deciso proprio di parlarvi di quelli che sono comunque brand da grande distribuzione e non magari invece brand di alta profumeria o già insomma sapete che quando si trovano o per esempio da Sephora già il costo è un po' lievitato ho provato altri scrub che mi sono piaciuti ma di costo molto notevole quindi tra gli sugar scrub quello preferito è proprio questo una cosa che vi avevo già detto sia nel video in cui vi parlavo delle beauty news e ve li facevo vedere sia nel video in cui lo provavo è che per una normativa europea non si possono più vendere scrub che non abbiano particelle scrubanti naturali quindi questi di milloreal hanno il 100% di esfolianti di origine naturale infatti sono i tre zuccheri fini lo zucchero bianco lo zucchero di canna ezzo di canna e bianco quindi un'esfoliazione intensa al tempo stesso delicata ed è vero e poi c'è l'olio di semi d'uva unito alla vitamina E l'olio di monoi e la polvere di bacche di acai con questo mi sono trovata benissimo questo invece mi è piaciuto quello diciamo per la pelle secca mi è piaciuto ma è quasi più un gommage però è assolutamente un buon prodotto quindi vedete voi quale scegliere senz'altro questo per pelle secca risulta un pochino meno scrabbante se così vogliamo dire è un pochino meno scrabbante se così vogliamo dire è un po' più è un po' più oleoso forse è la texture a granulini che si sentono un po' meno ma anche questo secondo me è un buon prodotto e questo qua invece è quello dedicato alla pelle diciamo quella più mista e grassa ed è quello al semi di kiwi non mi veniva non mi veniva la parola scusate ed è vedete questo qua ed è quello più forse non lo so rimane meno quello marrone per la pelle secca rimane più denso questo rimane proprio più gelatinoso abbastanza scrabbante però non lo so io tra questo e quello ai semi mi riconfondo sempre l'olio di semi d'uva trovo più scrabbante quello non so piuttosto che questo quindi non saprei hanno un odore buonissimo buono 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 proprio mi piace da morire mi devo asciugarle ma ha provato un mio amico lui mi ha detto non mi ha fatto impazzire forse sulla pelle maschile c'è bisogno di più azione non lo so ciao Nicola ma invece a me non sono dispiaciuti affatto ripeto il mio preferito è quello allo zucchero d'uva ma mi sono piaciuti tutti e tre quindi assolutamente ve li consiglio sapete che sono una fautrice della teoria per cui lo scrub sia importantissimo nella skin care sia proprio la base dell'anti age perché se noi non aiutiamo la nostra pelle a buttare via quelle che sanno le cellule morte non le diamo quel grosso aiuto che invece dopo una certa età la pelle la pelle chiede perché praticamente il turnover cellulare rallenta le cellule morte che si trattengono sulla nostra epidermide fanno fatica ad essere rimpiazzate dalle cellule nuove che arrivano e questo invece nella pelle giovane è una cosa assolutamente continua un ricambio continuo nelle pelli man mano che si invecchia nelle pelli più mature questo turnover cellulare rallenta quindi lo scrub ci aiuta a liberare la pelle dalle cellule morte tutti i trattamenti di skin care funzioneranno anche meglio verranno ben meglio ben assorbiti scusate mi stavo impaperando dalla nostra pelle quindi scrub 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 sapete che sono grande fan degli scrub passando al tema struccaggio ma poi arriviamo al make up perché ho delle belle cose di make up da raccontarvi però passando al tema dello struccaggio questo è il latte detergente che sto usando in questo periodo un latte detergente che costa veramente pochissimo è il balea vital con argan oil latte detergente colonio di argan adatto ideale per pelli mature ora secondo me non è che c'è un latte detergente ideale per pelli mature uno non per pelli mature diciamo che più che altro direi che è adatto alle pelli che vogliono una consistenza del latte detergente un po' le osetta un po' grassa un po' consistente magari per quelle che amano anche gli oli e che quindi quando utilizzano latte detergente lo vogliono bello corposo e appunto se è arricchito con degli oli a mio parere strucca anche meglio perché non si tratta di un trattamento di skin care una crema che è per pelli mature e un altro magari non è adatto per pelli mature qua diciamo che parliamo di un prodotto per lo struccaggio che poi al secondo posto ha la glicerina voglio dire l'argan oil nell'inci vedo che viene al primo secondo terzo quarto quinto al sesto posto per cui insomma non è in altissimo nell'inci ma il prodotto strucca bene fa il suo lavoro costa poco e ovviamente io dopo essermi impastata al viso di latte detergente aver asportato il tutto col pannetto in microfibra ho bisogno di sciacquare il tutto con la detersione finale con un gel appunto a risciacquo un gel schiumoso a risciacquo che mi permetta di non solo asportare il latte detergente le particelle di trucco ma anche di sentirmi proprio fresca e con una pulizia finale perfetta però questo è veramente un prodotto ottimo mi sta piacendo molto strucca molto bene e quindi assolutamente un prodotto low cost questo è super low cost lo trovate al DM insomma è veramente ottimo restando sempre in tema di skin care prodotto che mi è piaciuto moltissimo moltissimo veramente sono le face mask di shaka beauty queste le trovate appunto all'ovs nei corner di shaka sono made in corea ho visto che shaka fa una selezione di maschere coreane veramente ok ce ne sono di tantissimi tipi ci sono quella forma di animale quella forma di panda sapete che ne ho provate varie ma secondo me tra tutte quelle che ho visto nell'area appunto vs mi sono piaciute queste me ne aveva mandato una selezione il brand e io queste le ho ricomprate perché le trovo stratosferiche non ho utilizzato soltanto già questa e questa che sono la lifting e la brightening ho utilizzato anche la zurra che mi pare sia l'idratante la gialla che era la nutriente non lo ricordo sinceramente ma devo dire che tutte mi sono piaciute non ho visto grandissime differenze non è che quando mi sono messa questa ho detto wow quanto è illuminante quando ho messo questa ho detto wow quanto mi ha fatto il lifting no non è così però dopo averle applicate vedo proprio la pelle sento che sono ricche 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 imbibite tantissimo facili da far aderire al viso il tessuto utilizzato è di altissima cioè performante proprio mi aderisce bene qua sotto è proprio pieno di roba tant'è vero che dopo che ho tagliato la aperto la maschera l'ho utilizzata e l'ho gettata via il giorno dopo ho utilizzato il siero che c'era qua dentro perché ce n'era tanto proprio tanto 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 in abbondanza queste maschere ve le straconsiglio perché secondo me sono delle ottime maschere e comunque insomma il costo è certo non da maschera di alta fascia insomma è un prezzo comunque abbordabile quindi ottime mi piacciono veramente tantissimo addirittura volevo precisarvi cioè il contenuto è di 23 ml di siero ragazze 23 ml di siero costano sui 4 euro se non sbaglio 3 euro e rotti anzi 379 399 quindi un prezzo assolutamente abbordabile top maschere top maschere passiamo adesso ragazze al make up come vi dicevo la mia pelle è diventata tendenzialmente una pelle mista in questo periodo quindi se durante la giornata non ho dietro la cipria è un guaio perché qualunque fondotinta io utilizzi in questa zona dopo un bel po' di ore magari non subito ho certi fondi dopo 3 altri dopo 6 7 8 sto fuori sapete tantissime ore e quindi mi lucido la mia cipria preferita compatta che mi sto portando dietro sempre infatti sono andata a prendere il mio beauty dalla borsa perché la cipria era dentro è la brighten up di essence la banana powder di essence la adoro innanzitutto ci setto il correttore ed è top ed è raro che mi piaccia una cipria compatta per settare il correttore poi ha una grana veramente super fine è impalpabile impalpabile mi tiene la lucidità a bada per numerose ore e quando devo andare a ritoccare che magari utilizzo vedete pennelloni come questi grossi non è troppo polverosa insomma mi piace perché non mi aggiunge tanto strato non mi aggiunge proprio strato cioè molte ciprie mi danno subito un aspetto super rugoso è veramente un ottimo prodotto ragazzi costa niente ha un bel giallo che illumina quindi qua sotto è perfetta per illuminare la zona delle occhiaie boh l'adoro mi piace tantissimo mi sento veramente di consigliarla ad occhi chiusi poi passiamo al le labbra e torniamo a Shaka che questo mese protagonista abbastanza di questo di questo low cost di questo video low cost ragazzi ho notato che un sacco un sacco un sacco di prodotti di questo brand cioè che propone Shaka mi piacciono io ho molto apprezzato quest'anno devo dire le cosine che mi sono state omaggiate dal brand top su tutte lo sapete ne ho parlato fino alla nausea la matita sopracciglia del Lotti London e la matita per l'interno dell'occhio di Lotti London che sono entrate già di diritto nei miei top low cost dei mesi passati continuo ad utilizzarle non ve ne nomino più perché in ogni video low cost vi voglio nominare delle cose nuove ma ragazze i rossetti liquidi cioè i rossetti liquidi di Lotti London sono stupendi questo questo è un colore bellissimo che si chiama Yas eccolo qua ed è quello che appunto indosso oggi c'è anche il rosso che non vi ho fatto vedere il colore è questo che vedete sulle labbra è meraviglioso ve lo swatcho qua eccolo qua cioè è stupendo questo rossetto l'altro bellissimo è Girl Power è un colore meraviglioso anche questo diverso ovviamente ma adesso vi parlo anche di come durano sulle labbra il rosso che è un rosso bellissimo molto caldo questo poi c'è Flick che mi piace da impazzire è un colore cioccolato al latte eccolo qua poi c'è aspettate no non è lui l'unico che sulla mia carnagione mi convince meno è Han che è questo malva che però è molto bello è semplicemente che sulla mia carnagione mi lascia più così ed è questo qua ok il mio preferito è ovviamente Yas che è questo qua che ho sulle labbra mi piace da morire da impazzire allora durano tantissimo tanto 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 non mi seccano le labbra non sopporto i rossetti liquidi in questo periodo troppo aggrappanti alle labbra che mi seccano soprattutto nella stagione prima mi dà fastidio vedere questo aspetto di rattrapimento delle labbra col caldo preferisco un rossetto un po' morbido questo rimane vedete opaco non si stampa ma molto elastico molto molto morbido lo potete ritoccare alla perfezione i colori sono bellissimi io non so se ho tutti i colori onestamente ma ho queste tonalità qua più il rosso scusate mi stavo dimenticando anzi no ho sbagliato perché ho tirato su tra gli altri aspettate che li metto qua o mi confondo ho tirato su anche questo che non ho ancora provato ma ve lo volevo segnalare è Shook ed è un metallic che vi swatcho adesso qua io questo non l'ho provato sulle labbra ma è un rossetto metallico di un colore molto diciamo in voga in questo periodo vedete questo metallico qua che sicuramente si rifà anche un po' al famoso antimatter di Nabla che aveva fatto un colore così e quindi questo lo devo ancora provare e in più devo ancora provare anche gli holographic che sono questi qua vedete questi non li ho diciamo ancora messi in opera però magari ve ne parlerò più in là e vediamo come si comportano e c'è anche lui me lo stavo dimenticando eccolo qua veniamo ad un altro grandissimo amore di queste credo di avervi già accennato si tratta sempre di un prodotto in vendita da Shaka perché sapete che l'Hotty London lo trovate nei Corner Shaka questi se possibile mi piacciono ancora di più di questi sono innamorata innamorata di questi rossetti liquidi questi sono questi sono più cremosi vellutati quando li mettete sulle labbra sono proprio effetti un po' velvet questi sono invece liquidi e lucidi quando li mettete sulle labbra però poi si asciugano per un po' di tempo stampano e poi però tingono bene le labbra e durano tantissimo lasciando le labbra morbidissime sono eccezionali e ci sono dei colori di cui io sono letteralmente innamorata folgorata questi colori sono lo 01 che è Romantic Dream che è proprio uno di quelli che adoro più profondamente e ve lo faccio vedere qua eccolo qua li vedete così liquidi sembra anche disomogeneo ma contate che sono liquidi cioè voi quando li mettete li dovete stendere e ripassare bene e poi lasciare asciugare qualche secondo e ritoccare bene e si applicano in maniera super uniforme però sono molto liquidi quindi non fatevi ingannare dal fatto che magari come lo mettete qua come swatch sembrano uniforme perché poi nelle labbra vi vengono benissimo poi l'altro colore che mi piace da impazzire è aspettate che veramente sono tanti non tutti li ho provati e non tutti mi fanno impazzire allo stesso modo il 13 che si chiama Rouge Noir ed è stratosferico eccolo qua è bellissimissimo poi ancora 07 il cotton candy che uso sempre sempre moltissime volte in cui mi avete chiesto che rosetto party portavo cotton candy che è una delle mie classiche tonalità super adorate questo qua cotton candy poi aspettate vediamo quale di questi vi devo far vedere perché poi ce ne sono certi che invece non ho ancora utilizzato eccolo qua allora the queen numero 06 che è un altro di quelli che mi fa impazzire guardate che rosa malva meraviglioso stu 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 stupendo ultimo lo 03 che si chiama pretty woman eccolo qua queste sono le tonalità che mi piacciono in assoluto di più guardate pretty woman quanto è bello cotton candy giusto lo 07 meravigliosi gli altri li ho usati meno e alcuni per niente ma ve li segnalo perché la performance del rosetto è eccezionale e quindi resta solo una questione di gusti molto bello ecco mi ero dimenticata anche il rosso red star che mi piace moltissimo è un bel rosso bello pieno vedete invece non ho utilizzato il 14 perché è un viola e anche in questo periodo diciamo che non potrai perché lavorando in farmacia non posso mettere dei colori così particolari però ve lo segnalo perché se invece a voi piace magari avrete piacere di provarlo poi il numero 04 che si chiama angel kiss che è molto molto chiaro non mi sembra adatto al mio al mio incarnato ma non l'ho mai provato ma magari ci proverò eccolo qua vedete angel kiss giusto ok poi questo ve l'ho fatto vedere mi mancano questi qua il 12 che si chiama plump me up che è un grayish quindi uno di quelli grigi violacei che appunto non è secondo me ne adatto alla stagione ne adatto a dove io in questo momento sto lavorando poi bright peach che non è assolutamente adatto al mio incarnato e quindi faccio fatica a osare con questo colore che è questo qua e poi per ultimo che invece ho usato una volta ma è molto molto bright quindi magari mi riservo proprio per i giorni in cui arriverà la super primavera che è il classico fucsia tipo candy yum yum di mac che invece mi piace moltissimo no l'ho messo in un punto infame ma vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua guardate che fucsia è questo mi piace molto semplicemente l'ho utilizzato poco mi sto sporcando con l'altro perché appunto ancora un fucsia così spudorato magari non è stagione per utilizzarlo sono dei rossetti mi piacciono tantissimo addirittura questo gruppo qua cioè questi qua con anche questo ce li ho praticamente sempre qua nel beauty perché magari dopo che mangio dopo pranzo comunque sono tonalità che stanno abbastanza bene con i trucchi che faccio io sono dei come vedete dei rossi o comunque a base violacea ma siamo lì magari dopo pranzo lo ripasso perché io lavo sempre mangio spesso addirittura sono io che levo il rossetto per mangiare comodamente non lasciare impronte sulla forchetta mi dà fastidio quindi levo il rossetto mangio lavo i denti rimetto il rossetto e magari ne metto un altro quindi me li porto me li porto dietro e ho quelli che preferisco tra i lotti london e quelli che preferisco dei lip cream questi diciamo sono i rossetti del momento che mi fanno impazzire mi piacciono tantissimo per cui ve li ve li strastra straraccomando perché trovo che siano due diversi tipi di prodotti uno è più cremoso ripeto uno è più liquido ma top tutti e due cioè veramente senza ombra di dubbio sono i prodotti preferiti labbra da almeno un mese a questa parte se non di più quindi non posso fare altro che raccomandarveli e io con questo video ho terminato non mi resta che andare a lavarmi le braccia perché sono tutta sbocciata e salutarvi mandarvi un bacio ringraziarvi sempre per tutti i complimenti tutti i commenti tutte le robe eccetera eccetera volevo dire a tutti quanti quelli che guardano il video che Pablo sta benissimo ragazzi Pablo è un uomo in forma sta bene non c'è nessun tipo di problema vi saluta quindi sta bene non vi preoccupate per lui per cui io vi mando un bacio sono le 10 10 ed è tardissimo devo andare a dormire perché domani mattina mi devo alzare prestissimo vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao